Chiara Ferragni e Fedez Chiara Ferragni e Fedez, shopping di lusso in Porsche, lei è gelosa di Levante Fedez. Chiara Ferragni Fedez è impegnato a X Factor e sembra che Chiara abbia qualche problema con Levante, si dice che Chiara Ferragni scrive Ivan Rota nella sua rubrica sulla rivista Non veda di buon occhio la nuova compagna di banco del fidanzato Fedez a X Factor, la cantante Levante. . Tra Fedez e Levante pare ci sia tanta, forse troppa, simpatia. .